Diventa un affare di Stato la vicenda dell'ex Silva dopo la decisione di Arcelor Mittal di abbandonare l'Italia. Scade oggi l'ultimatum del governo all'azienda per fare marcia indietro su scudo legale d'esuberi. L'appello del ministro Patuanelli a tutte le forze politiche è a rischio il sistema paese. Preoccupazione da parte del Quirinale, c'è stato un colloquio di un'ora fra il presidente della Repubblica Mattarella e il premier Conte. È stata assegnata alla senatrice a vita Liliana Segre una scorta da parte del ministero dell'interno dopo i messaggi antisemiti sui social e lo striscione contro di lei di Forza Nuova. Un grave segnale per l'Italia e il commento di molti esponenti politici. Il presidente francese Macron ha sferrato un durissimo attacco all'alleanza atlantica definita in stato di morte cerebrale. Critiche pesantissime da Parigi per la mancanza di coordinamento militare nelle crisi internazionali. Ma la cancelliera tedesca Merkel prende le distanze, plauda invece la Russia che definisce oro le parole di Macron. E poi gli Stati Uniti, l'ex sindaco di New York e il miliardario Michael Bloomberg avrebbe sciolto le riserve e sarebbe pronto a scendere in corsa con i democratici per contendere a Donald Trump la Casa Bianca nelle elezioni del 2020. È lui l'unico che può batterlo. Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. Allora oggi è il giorno dello sciopero in tutte le sedi, 24 ore, in tutte le sedi di Arcelor Mittal in Italia. Prima fra tutte naturalmente Taranto, la grande, la più grande acciaieria europea che il gruppo, la multinazionale franco-indiana vuole abbandonare dopo aver la decisione di recedere dal contratto di acquisto siglato con l'Italia. Il governo reagisce, insiste, devono rimanere, continuano le offerte, soprattutto quella di un nuovo scudo penale, ma la partita è tutta politica e ieri in campo è sceso anche il Quirinale, colloquio fra Conte e Mattarella. Partiamo da qui. La vicenda ex silva diventa un affare di Stato. Il Presidente del Consiglio, dopo il colloquio al Quirinale da Mattarella, lancia un appello all'unità, a tutte le forze politiche. Necessario non mostrare crepe in una trattativa difficile con l'azienda franco-indiana che nel vertice di mercoledì, oltre al ripristino dello scudo fiscale, ha messo sul tavolo anche 5.000 esuberi. Una posta altissima con il Ministro dello Sviluppo Economico, Patuanelli, che in Parlamento difende la linea dura del governo nei confronti dell'azienda. Deve rispettare gli accordi, ma anche lui chiede compattezza al sistema. In altri paesi, quando ci sono crisi, si risponde in modo unito e unitario, non accusandosi vicendevolmente. A rischio è il sistema paese. Ma il margine di manovra non sembra molto e, nonostante la disponibilità del Premier, lo scudo non è un problema, potremmo ripristinarlo in poche ore, rimettere l'immunità penale sarebbe indigeribile per l'aladura dei 5 Stelle già sulle barricate. Parla di bleffa Luigi Di Maio, l'azienda intende comunque mandare a casa 5.000 lavoratori, mentre Zingaretti apre. Se l'azienda volta pagine e ammette di avere un problema di crisi industriale, ci si può pensare. Ma l'ipotesi in nazionalizzazione fa capolino. Non escludiamo nessuna ipotesi, dice il Ministro De Micheli. Siamo disposti a tutto. Caos nel quale si insinuano le opposizioni. Al posto dei lavoratori dell'IVA vada a casa il governo, la linea della Lega, Montecitorio, e Salvini in calza, governo di incompetenti. Meglio tornare al voto. Giuseppe Conte chiede scusa per il leggero ritardo, ringrazia sindacati e denti locali e apre il vertice sul destino dell'ex Silva, varando un tavolo permanente per la crisi grave, più che mai. Governo, sindaci, rappresentanti sindacali, dalla segreteria generale a quelli di settore, tutti si trovano concordi sul fatto di riavviare il prima possibile il confronto con la multinazionale ArcelorMittal. Con toni diversi c'è comunanza di vedute anche sul ripristino dello scudo legale per i vertici aziendali, non perfetto ma utile. E comunque il fronte italiano di questa vicenda è compatto nel ribadire che sfilarsi dal contratto senza neanche pagare pegno non è strada percorribile. Piuttosto ecco il ritorno alla gestione commissariale annunciato da Giuseppe Conte, la crisi è grave e senza una soluzione per Taranto andrà inevitabilmente in crisi tutto il comparto siderurgico nazionale. Quindi un nuovo serio faccia a faccia tra tutte le parti coinvolte sembra la strada migliore se non quella obbligata da percorrere. Una richiesta condivisa da tutti i principali nomi del sindacato, da Landini alla Furlanda, Re David Abentivogli. L'Arcelor Mittal per salvare la ex-ilva vorrebbe riscrivere l'accordo raggiunto mesi or solo tagliando almeno 5.000 esuberi e riducendo di conseguenza la produzione delle acciaierie. Ipotesi sino ad oggi considerata inaccettabile, lo ripetono i sindacati delle aree interessate. Taranto si dichiara vicino al governo per una battaglia che è solo all'inizio. Nuove sfide ed altri sacrifici non ci spaventano, dice il sindaco Melucci, purché l'essere umano torni figura centrale del negoziato contro chi attacca l'Italia così frontalmente rincara il presidente della regione Puglia, Emiliano. Noi siamo determinati, ha detto il governatore, visti i sacrifici degli ultimi 50 anni nel difendere i livelli occupazionali, è una linea del piave dalla quale non si possono fare passi indietro. Oggi sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti della multinazionale. Non è naturalmente l'unica crisi in atto quella dell'ex Ilva di Taranto, c'è anche l'Italia, l'Italia dal cui acquisto si è sottratta sostanzialmente l'Uftanza, quindi si continua a trattare soprattutto con Delta. E a proposito di economia, c'è una notizia che non è bella, l'Italia supera la Grecia, ma è qualcosa che non ci piace molto. Siamo il paese debitore più rischioso dell'intera area euro, lo dice il Financial Times, il rendimento dei nostri bond a 10 anni è intorno all'1,10. Quello della Grecia è all'1,10, il nostro all'1,16. Quindi, nonostante Atene fosse in una situazione economica drammatica, ora noi talloniamo proprio la Grecia, ma da dietro, come paese a rischio. Sicuramente non un buon dato, proprio mentre l'Europa comunica i numeri della crescita dell'economia europea che ci vedono, come sempre, fanalino di coda. Ultimi in Europa per crescita. Le previsioni economiche d'autunno della Commissione europea pubblicate ieri hanno ribadito quella che di certo non è una novità, arricchendola però di prospettive non certo rosee. Nel 2019, secondo l'esecutivo comunitario, eviteremo la stagnazione per un solo decimale e qui le stime convergono con quelle del governo. Uno stallo che dura dall'inizio del 2018 e che, recita il rapporto, non mostra segnali significativi di ripresa, tanto che nei prossimi due anni il PIL non si spingerà oltre lo 0,7% del 2021. Stime, in questo caso, più pessimistiche rispettivamente di due e tre decimali di quelle messe nero su bianco nella nota di aggiornamento al DEF. Troppo pessimistiche, secondo il ministro dell'economia Gualtieri, il quale dall'Eurogruppo a Bruxelles ha ribadito tutta la propria fiducia circa la possibilità di raggiungere gli obiettivi fissati dal governo, peraltro considerati prudenti. Il problema è che, a cascata, le basse stime di crescita della Commissione si riflettono su deficit e debito e mostrano in controluce tutte le perplessità nei confronti di una manovra che comunque di sicuro non verrà bocciata, come ha ribadito ieri il commissario agli affari economici, Moscovici. Tagliare la spesa, fare riforme strutturali ed evitare di puntare troppe fish sul gettito da lotta all'evasione. Questi i consigli provenienti da Bruxelles, che prevede, al contrario del governo, una traiettoria nettamente ascendente sia dell'indebitamento sia di conseguenza del rapporto debito-PIL. Quest'ultimo, infatti, passerà dal 136,2% di quest'anno, già in crescita rispetto al 2018, al 137,4% del 2021, numeri su cui, dicevamo, pesa come un macigno la scarsa crescita che affligge il nostro Paese. Più di ogni altro in un'Europa che comunque, sia per quanto riguarda l'Eurozona che l'Unione a 27, grossi segnali positivi non ne dà, come certifica, il taglio delle stime. Da ieri la senatrice a vita, Liliana Segre, sotto scorta da parte del Ministero dell'Interno. Ci sono due carabinieri che la seguono durante tutti i suoi spostamenti, molti commenti politici. Ne arriva uno anche dal centro Simon Visent, quella della caccia ai criminali nazisti. Un cattivissimo segnale anche di come sta ricrescendo l'antisemitismo in Europa. Un terribile segnale, un passo indietro della società, una vergogna per l'Italia. I commenti alla notizia della scorta per Liliana Segre, 89 anni sopravvissuta ad Auschwitz, sono tutti, o quasi, di questo tenore. Soltanto la senatrice a vita, che da 24 ore ormai si muove seguita passo passo da due carabinieri in borghese, non ha voluto esprimersi sulla decisione del prefetto di Milano di assegnargli una protezione armata, dimostrando ancora una volta di preferire alle polemiche il suo quotidiano impegno politico e di testimonianza. Ha parlato invece uno dei tre fil che ha chiarito come la scorta non sia stata richiesta dalla famiglia ma sia scaturita dall'input del ministro dell'interno, Luciana Lamorgese. La preoccupazione per le ripetute minacce via web, ormai giunte a una soglia intollerabile e lo striscione di protesta di Forza Nuova, srotolato prima di un evento con gli studenti di due scuole milanesi, hanno indotto il Viminale alla richiesta di intervento e di tutela per la senatrice a vita, testimone dell'olocausto. La scorta, per singolare coincidenza, è stata assegnata a Liliana Segre proprio nel giorno in cui il sindaco di Pescara, Carlo Masci, e i consiglieri leghisti della città abruzzese le hanno negato la cittadinanza onoraria proposta dal centro-sinistra. Mancherebbe il legame con il territorio, secondo la destra, al governo di quella città. Pessima giustificazione e pessima figura per Pescara. Altrettanto discutibile l'uscita del leader leghista, Matteo Salvini. Minacce gravissime quelle contro Liliana Segre, come del resto, quelle che anche lui riceve quotidianamente. Un parallelismo tra sé e la donna sopravvissuta ad Auschwitz, apparso a tanti irriguardoso e assolutamente fuori luogo. Una notizia importante arriva dagli Stati Uniti. Secondo fonti di stampa, Michael Bloomberg, l'ex sindaco di New York, è pronto a scendere in campo con i democratici per la corsa alle presidenziali del 2020 e questa non è una buona notizia per Trump. Sembra davvero la volta buona il miliardario Michael Bloomberg starebbe per candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti e sfidare così l'altro miliardario attualmente alla Casa Bianca. L'ex sindaco di New York, nonostante non sia sicura al 100%, già nelle prossime ore dovrebbe presentare tutta la documentazione necessaria per partecipare alle primarie democratiche in Alabama. A spingere Bloomberg, due motivazioni principali. Considera Trump una minaccia senza precedenti per il Paese. Giudica il parterre degli attuali candidati democratici troppo debole. Nessuno può battere Trump, avrebbe confidato più volte. Joe Biden sarebbe troppo debole, mentre Bernie Sanders e Elizabeth Warren troppo a sinistra per intercettare il voto moderato. La discesa in campo di Bloomberg naturalmente avrebbe l'effetto di un terremoto per la corsa dei democratici. L'ex primo cittadino di New York, oltretutto, non avrebbe il problema di come finanziarsi la campagna perché il suo patrimonio personale gli consente di non perdere tempo a raccogliere fondi. Sarebbe una pessima notizia anche per Trump, che nelle ultime settimane è stato molto indebolito dall'inchiesta e dal conseguente possibile impeachment. Oggi il congresso ha convocato il capo di gabinetto della Casa Bianca, Mick Melveni, alle nove del mattino, alle tre del pomeriggio in Italia. Difficile che si presenti. Le 17 aprile scorso confermò pubblicamente, salvo poi smentire, che ci fu il famigerato quid pro quo, che Trump cioè ritirò gli aiuti all'Ucraina per pressare il presidente Zelensky e costringerlo a fare indagare i Biden. Sarebbe la prova di un abuso di potere da parte di Trump. E a proposito di Trump, a Stati Uniti c'è una grana che arriva dall'Europa e la polemica di Macron contro l'Alleanza Atlantica. Al capezzale dell'Alleanza Atlantica, la Francia di Macron ne dichiara la morte cerebrale. La tedesca Merkel si dissocia, ma solo per il tono troppo drastico usato dal capo dell'Eliseo. A Mosca stappano bottiglie di champagne. Parole d'oro, dice il portavoce del Ministero degli Esteri. La diagnosi impietosa di Macron è stata resa pubblica nelle stesse ore in cui Angela Merkel riceveva a Berlino il padrone di casa dell'Alleanza, il norvegese Stoltenberg, che si è limitato a dire che la Nato continua a essere forte. Obsoleta l'aveva invece definita Donald Trump, mentre il segretario di Stato americano Mike Pompeo, in Germania per il trentennale della caduta del muro, ha ricordato che gli Stati Uniti sono stanchi di portare quasi interamente sulle loro spalle il peso finanziario della Nato. Poca solidarietà tra i partner, nessun coordinamento delle decisioni strategiche, sostiene Macron, che indica ciò che è avvenuto in Siria per dimostrare la sua tesi. Washington non ha consultato gli alleati europei per ritirare le sue truppe dalla Siria del Nord, abbandonando le forze democratiche siriane e le milizie kurde, che avevano dato un contributo essenziale alla lotta contro l'Isis e che ora sono sotto attacco da parte della Turchia, altro partner Nato. Ma c'è chi ricorda che nella Libia dilaniata dalla guerra civile, la Francia ha preso le parti del generale Haftar, ostile al governo Sarraj, appoggiato dagli altri paesi dell'Unione. A 70 anni dalla sua nascita, insomma, l'alleanza sembra sempre più divisa al suo interno, anche se rimane pur sempre per l'Europa il sistema di difesa collettivo più credibile, anzi l'unico, visto che i piani di difesa europei, di cui si parla da anni, sono sempre rimasti sulla carta. O va detto che c'è stato uno sciamesismico notturno in Abruzzo dopo la scossa forte 4,4 di ieri intorno alle 18.30, la scossa più potente 3,5 intorno alla mezzanotte. E veniamo alle altre notizie di cronaca. Oggi funerali per i tre vigili del fuoco morti nel soccorso alla Cascina nell'Alessandrino. Ecco le notizie con il punto sulle indagini. Manca il nome di chi ha agito e il movente, ma sul fatto che chi ha provocato l'esplosione della Cascina di Querniento lo abbia fatto per uccidere il procuratore capo di Alessandria non ha dubbi. E la premeditazione di quel gesto, secondo gli investigatori, è quell'ordigno trovato in esploso, due bombole del gas allacciate alla buona, un timer rudimentale, escluso l'attentato di matrice terroristica. Secondo gli investigatori, si tratterebbe di un gesto compiuto da qualcuno che non sarebbe un professionista, ma che saprebbe invece maneggiare inneschi e materiali esplosivi e che forse non voleva uccidere Matteo Castaldo, Marco Tricchess e Antonio Candido, i tre vigili del fuoco intervenuti subito dopo la prima esplosione per mettere in sicurezza l'edificio e rimasti sepolti dalle macerie dopo l'ultima esplosione. Intanto, continuano gli accertamenti dei RIS di Parma, il punto cruciale è capire quando le bombole di GPL sono state portate nell'ex azienda agricola e è stato accertato chi le ha vendute ma si ignora ancora l'acquirente mentre si scava nella vita dell'imprenditore Giovanni Vincenti, proprietario del sito crollato. Si indaga nell'ambiente familiare, diviso da litigi e denunce, ma anche in quello professionale. Oggi si terranno i funerali soleni di tre pompieri in Duomo dove saranno presenti anche il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il Ministro dell'Interno, Lamorgese. I vigili del fuoco hanno diffuso un video del 2010 di Marco Tricchess quando aveva 29 anni, durante il corso per diventare pompiere. No, io non mi sento un errore. Mi sento una persona che spera di avere l'opportunità di salvare della gente. Siamo al calcio, all'Europa League sconfitte le due romane negli incontri di ieri. La Lazio ha perso in casa per 2-1 con il Celtic. Anche la Roma è stata battuta col medesimo punteggio 2-1 ma giocava fuori casa con il Borussia Mönchengladbach. Invece noi parliamo adesso della crisi del Napoli. Gli azzurri domani affrontano nell'anticipo in serata il Genoa ma tante polemiche per la squadra di Ancelotti. Tutti contro tutti. De Laurentiis contro la squadra, Ancelotti contro De Laurentiis, i tifosi contro i giocatori e De Laurentiis. Insomma un caos in cui l'unica certezza è che domani alle 20.45 al San Paolo ci sarà il Genoa e che per quell'ora tutti dovranno riuscire a portare in campo una concentrazione che al momento sembra difficilissima da rimettere insieme. La giornata di ieri ha fatto definitivamente esplodere le fratture. Un centiraio di tifosi ha contestato pesantemente i giocatori che, supportati da Ancelotti, avevano rifiutato di tornare in ritiro dopo il pareggio con il Salisburgo, non brillante ma sufficiente ad ipotecare il passaggio agli ottavi dicembre. Una contestazione che è arrivata anche dentro il San Paolo da parte di alcuni dei circa mille abbonati che il club, a dispetto della situazione incandescente, aveva comunque ammesso a seguire l'allenamento come precedentemente programmato. Grida e insulti, specialmente nei confronti del capitano Insigne e perfino di Mertens, proseguiti anche nei riguardi dei giocatori intercettati all'uscita dallo stadio dopo la sessione di training. Al tanto rumore degli Ultras ha fatto da contraltare però una calma piatta tra le parti e non solo per il silenzio stampa imposto a giocatori e tecnico. De Laurentiis sta preparando sanzioni disciplinari ed economiche senza precedenti con l'ausilio dei legali, con l'intenzione di denunciare i suoi giocatori alla Procura Federale, chiedere la riduzione dei compensi e citarli in giudizio per rifarsi dei danni di immagine arrecati. La vicenda conoscerà il suo epilogo con ogni probabilità solo nella settimana della pausa per l'impegno nazionale, ma anche escludendo conseguenze clamorose, dimissioni di Ancelotti incluse, niente potrà più sanare la frattura tra De Laurenti e i sei giocatori, finiti ormai irrimediabilmente ai due opposti estremi di un calcio che all'ombra del Vesuvio non riesce più a stare in equilibrio tra il presidenzialismo invasivo alla De Laurentiis e il bilanciamento di forze ormai non più garantito nemmeno della proverbiale saggezza di Carlo Ancelotti. Fra poco Paolo sotto corona per le previsioni meteorologiche, tanti ospiti invece per Alessandra Sardoni oggi nella puntata di Omnibus ci sono Pietrangelo Buttafuoco, Carlo Calenda, Vittorio Parsi, Gianfranco Pasquino, Antonio Polito, Lorenzo Pregliasco e Achille Occhetto. Alle 13.30 la prossima edizione del telegiornale. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.